Esattamente cento anni fa nasceva Trebisonda Valla al secolo Ondina Valla, l'atleta olimpionica aquilana d'adozione che vinse la medaglia d'oro negli 80 metri ostacoli alle Olimpiadi di Berlino 1936. La vittoria delle Olimpiadi la portò a diventare il simbolo della gioventù del periodo fascista, l'esempio vivente di sana e robusta costituzione per giunta al femminile. Peccato però che quella medaglia d'oro fu rubata nella sua casa aquilana di via 20 Settembre nel 1978. Per rimediare alla triste vicenda una copia identica del trofeo nel luglio del 1984 le fu donata dall'allora presidente del comitato olimpico Primo Nebbiolo. Ondina Valla nacque dunque a Bologna il 20 maggio 1916 e morì all'Aquila il 16 ottobre del 2006. In mezzo tanti successi sportivi e una passione quella appunto per la città dell'Aquila che l'adottò con tanto affetto e che porterà con sé fino alla morte. A partire dal 1995 quando Valla portò per l'ultimo breve tratto la torcia del fuoco del Morrone proveniente dall'eremo di Pietro Angelerio a Sulmona e accese la torcia della pace sulla torre di Palazzo Margherita all'Aquila per dare il via quel 23 di agosto al rito della perdonanza celestiniana. Da oggi per celebrare i cento anni dalla sua nascita sarà attiva sul portale Facebook la pagina ufficiale a lei dedicata mentre è in preparazione il sito internet www.ondinavalla.it atleta olimpica che ha fatto la storia dell'atletica italiana a cavallo tra le due guerre mondiali e che fu appunto Aquilana d'adozione.